Torniamo ad affidare l'apertura al problema del Covid perché ieri ci sono stati tanti casi, un numero in aumento rispetto ai giorni precedenti. Anche oggi vi posso già dire, perché i dati sono già arrivati, che sono 1036 i positivi delle ultime 24 ore, ci sono 704 guariti, c'è anche un decesso, un uomo di 92 anni. In ospedale sono 136 le persone ricoverate in area medica rispetto a ieri più 2, mentre è stazionario il numero delle persone in terapia intensiva più 5. Comunque sia un trend in crescita per i positivi al Covid, trend che peraltro riguarda un po' tutto il paese, tutta l'Italia. Allora, proprio per questo abbiamo deciso di andare con Massimo Profeta ad ascoltare il professor Parruti, che è il primario di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, nonché direttore del Covid Hospital e dovrebbe essere in diretta con noi. Vediamo se Massimo mi sente. Massimo, buongiorno. Sì, grazie, grazie Marina per la linea. Dunque, casi in aumento, i casi positivi in una settimana sono quasi raddoppiati, vanno di pari passo inevitabilmente con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche al chiuso, più ricoveri. Siamo qui con il professor Parruti per fare il punto della situazione. Il quadro è in peggioramento, c'è da preoccuparsi? Allora, il peggioramento è solo iniziale, però i segnali sono chiari. Nelle ultime 48 ore abbiamo fatto oltre 15 consulenze di pronto soccorso, che è un numero che non si vedeva, diciamo, da parecchio tempo. Nella passata nottata abbiamo ricoverato in reparto Covid tre persone, cosa che non succedeva da almeno due mesi. Quindi ci sono segnali di incipiente ripresa. Per fortuna c'è anche un aumento di accesso dei pazienti al The Hospital Covid, che è uno strumento molto importante di prevenzione. C'è la necessità a questo punto di vaccinarsi, no, professor? Sì, sì, assolutamente. Allora, innanzitutto ci sono grosse novità, come credo ormai tutti sappiano, già è quasi una settimana, che sono stati tolti i limiti di età preesistenti alla quarta dose. Possono essere vaccinati con una dose di richiamo tutti coloro che abbiano più di 12 anni. Quindi questa è un'ottima notizia, specialmente per chi ha una terza dose vecchia, tra virgolette. Io provvederei il prima possibile, sempre e soprattutto sulla scorta di questi dati importantissimi, che ci dicono che la protezione derivante dalla quarta dose, anche del vaccino precedente, è una protezione molto forte contro Omicron 5, che è la variante in circolazione attualmente. Verrà meno tra un paio di giorni l'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto pubblici, insomma sarebbe il caso di mantenere alcune misure o no? Allora, guardi, parliamoci francamente. Quando vengono tolte tante delle precedenti misure di protezione, cioè a fronte del fatto che si possa stare in 50.000 per 6 ore uno addosso all'altro in un concerto, tenere la mascherina nel mezzo pubblico è una misura sempre utile, ma ha una capacità di riduzione del rischio di trasmissione di comunità, oramai molto poco incidente. Cioè la ragione per cui si procede lungo la strada di questa progressiva destrutturazione delle difese di massa, a favore di una raccomandazione delle difese individuali, perché gli strumenti continuiamo a conoscerli, e quindi se uno sa di avere una fragilità è bene che continui a proteggersi, è legata proprio al fatto che sappiamo che la vaccinazione funziona, quindi puntare sulla copertura vaccinale, sulla forza della copertura vaccinale, ha una potenza nella capacità di riduzione di quello che noi chiamiamo il carico virale di comunità, il community viral road, cioè la riduzione del virus circolante è fortemente controllata dalla quarta dose, perché le persone con la quarta dose hanno un periodo di infezione più breve, è una carica virale generalmente più bassa, quindi se ognuno diffonde un po' meno, il rischio di incontrare il virus si riduce. Quindi meno mascherine è la scelta che è stata fatta, e oramai è una scelta fatta da tanto tempo, i residui di obbligatorietà cambiano poco il carico virale di comunità, la quarta dose impatta molto sul carico virale di comunità. Esaustivo, chiarissimo come sempre, ringraziamo il professor Parruti.